buongiorno benvenuti a questo lunedì mattina con le cronache ormai a giorni alterni senza fine settimana con gente che va gente che viene tranne la sileoni diciamolo chiaramente la serietà la serietà è un peso la serietà è un modo uno stile di vita e serena sileoni che ce l'ha insegnato in questi mesi non può esimersi da lasciare che io e stagnano facciamo i cazzoni in giro ognuno diciamo secondo lettere mentre lei ci ricorda che il pericolo non è passato non la voce della nostra coscienza ecco non dovete grillo parlante sfigato triste la guardia non dovete abbassare non vorrei che abbassare ricordati che devi morire quindi sebbene i contagi continuino a scendere sebbene gallera o gallera io non l'ho capito perché gallera poi sa pure di wallera come in campania e questo può essere una cosa che non va bene seppure ci abbia spiegato che dobbiamo fare sesso con due infetti per poter essere infetti anche noi e sebbene noi abbiamo queste aspirazioni in stagnano non ci capita mai quindi da questo punto vista stiamo passando manco per sbaglio manco per sbaglio quindi diciamo noi dobbiamo stare attenti e quindi buongiorno ragazzi diteci cosa sta pensando il nostro stupendo governo per farci rispettare lo so io lo so io no io ho letto che finalmente una buona notizia perché adesso hanno detto che si può uscire però c'è questa roba della movida che non se ne può più signora mia questo quello su e giù e allora adesso mandano la persona a separarci i separatori i dissennatori i distanziatori umani distanziatori praticamente credo che il lap che tanto cercavamo cioè noi stiamo aspettando da due mesi lap per la fase 2 la fase 2 è terminata siamo entrati in fase 3 l'app è stata sapete che la task force del governo sulla tecnologia aveva individuato un paio di app poi in realtà il ministro ne ha indicata specificamente una ma non è nemmeno quella perché sarà un'app ancora più rivoluzionaria che arriverà quando non c'è più il covid rivoluzionaria non ci faremo i cazzi degli altri sarà per farsi i cazzi degli altri tanto non è che serve l'app in italia sarà l'app 5.0 c'è un'app dove l'intelligenza non è più soltanto artificiale ma è proprio umana finalmente diventata un'intelligenza umana perché i distanziatori e il tracing si farà umano ci saranno dei volontari e che credo pagati perché il servizio civile è volontariato ma con un diciamo un gettone d'altronde la parola volontariato richiama il pagamento no esatto anche questo in italia ha senso e quindi il ministro boccia ha annunciato la pubblicazione di un bando per il reclutamento di distanziatori umani cioè di inoccupati disoccupati o percettori di reddito di cittadinanza e reddito di emergenza che dovranno svolgere questo incarico di ausiliari del traffico umano e attenzione e noi in anteprima possiamo mostrare la pettorina dei nuovi distanziatori e quindi cosa faranno saranno persone fondamentalmente mentre tu stai baciando la tua fidanzata ti verranno a rompe i coglioni perché se sei congiunto o meno e tu dici vabbè guarda per fidanzato non è congiunto non è congiunto quindi sono dei depende quelli che noi definiamo in sicilia dei mommi però è un affetto stabile è un affetto stabile quindi dovranno anche sindacare e quindi dovranno anche guardare mentre tu stai facendo l'atto per capire se poi sei troppo vicino o meno vicino questo è un ruolo e soprattutto perché potrà che cosa potranno fare potranno immagino incoraggiare un distanziamento potranno dire scusate state a 90 centimetri non a un metro dopo di che uno gli manda magari una delle tue uscite esclamazioni da turpiloquio ecco però scusami per per allontanarti loro si devono avvicinare ma sempre a un metro potrebbero avere un meccano come fanno ad allontanarti secondo me useranno un metro tipo quelli del falegname che funzionerà anche da distanza ragazzi ma che minchia di paese è di finito questo qua abbiamo l'assistente civico numero uno ma che minchia di paese è? e ora ho torto di avviare la rivoluzione armata secondo me avranno il metro dei falegnami con cui loro si tengono a giusta distanza ma al tempo stesso possono pungolare possiamo lasciarlo in sfondo per tutta la trasmissione? no 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 lo devi levare no perché volevo far notare lo sguardo no contrito meditabondo lo sguardo inquisitore di chi sta dicendo ecco io vorrei dirvi che se me ne procurate una di queste pettorine sarei grato ora volendo passare alla parte più seria di questa vicenda io avrei una domanda perché c'è una parte seria? ah infatti appunto ah la parte seria la parte seria questa minchia di cosa la pagano con i vostri soldi e voi due ridete cioè capisci questa la parte seria di questa vicenda capisci stagnato vabbè ormai ormai questo corresto anzi con i soldi degli olandesi e tedeschi no io ho due domande una di caratteristica però è un modo per far creare lavoro eh sì e infatti a me sembra un po' la riedizione in salsa italica del famoso suggerimento di Keynes di scavare le buche e poi riempirle di nuovo perché fondamentalmente è questo con un vantaggio che siccome queste persone finiranno all'ospedale è chiaro che se a me dovesse venire a rompere le palle più di due volte io poi alzerò le mani a chi mi viene a dire cosa devo fare e cosa non mi viene a fare ah quindi finiranno all'ospedale in quel senso sì no li mando io all'ospedale guarda che io lo conosco a Menta cioè quando a Menta dice adesso qua in tv sai quelle cose prima e dopo adesso qua su youtube dice io alzerò le mani poi quando va nel disantatore le alza così esatto e mi spaventio classicamente come un classico allora no ci sono due temi secondo me interessanti uno è di natura più giuridica e quindi lo dico all'unico mate che ho in materia giuridica cioè Serena l'altro invece è una domanda più economica e lo dico al vero economista di questo gruppo cioè Stagnato allora la domanda di natura giuridica è secondo me la supplenza continua e inutile di soggetti che non sono pubblici ufficiali che non hanno poteri e quindi per esempio diciamo degli asidari del traffico io ho una pletola di dipendenti che sono della polizia municipale eppure devo imbarcarmi a chiamare tante altre persone che non servono a solitare nulla come gli asidari del traffico per fare un lavoro che dovrebbe fare lo Stato e quindi a Serena chiederei di raccontarci un po' la sua opinione su questa continua supplenza se è solo clientelare o effettivamente è un altro esempio del fallimento dello Stato invece oggettivamente diciamo a Carlo volevo chiedere se noi ci troviamo ancora una volta di fronte a un governo che non sa spendere i soldi faccio due esempi poco fa Serena parlava del tracing in realtà quando noi discutevamo della app la maggior parte dei paesi e tutti i giornali l'Economist, il Financial Times spiegava che il vero tracing cioè la vera mappatura dei contatti di chi è stato infetto non si fa con le app ma si fa proprio con un esercito di persone addestrate e brave a farlo quindi competenti che sono in grado come gli investigatori di capire con chi sei stato e quindi molti paesi li hanno già assunti e li stanno facendo lavorare per fare un lavoro che non è questo il distanziatore sociale l'altro esempio è quello della scuola noi a oggi non sappiamo se a settembre la scuola riprenderà ho la sensazione che i sindacati della scuola ne stiano approfittando per non far fare nulla agli insegnanti e quindi dietro il paravento del rischio stiano premendo per ritornare non in aula ma nelle aule virtuali eppure questo governo invece che preoccuparsi di spendere soldi per fare stare i ragazzi in aule più ampi e più grandi dove possono essere messi in sicurezza vuole assumere 40.000 persone allora Carlo tutto questo è un modo soltanto per continuare a distribuire soldi a pioggia ma noi non risolviamo i problemi neanche con l'emergenza ma come finirà? ma io credo che ci sia due aspetti diversi anzi tre uno è come dite voi che avete studiato il fatto che tutte queste soluzioni sono ortogonali al problema cioè noi abbiamo un problema che ha una dimensione sanitaria che sembrerebbe in questo momento ridursi di importanza per fortuna e una dimensione economica che invece è gravissima e continuiamo a girarci intorno cercando ora soluzioni d'albero della cuccagna l'elemosina quello che io ho chiamato il reddito di cittadinanza per gli stati cioè vogliamo che l'Europa ci paghi tutte le nostre spese e dall'altro lato ci inventiamo cose che da un certo punto di vista sono buffe come questa qua dei distanziatori sociali da altri punti di vista invece non sono così buffe provate a immaginare la reazione di quelli che oggi propongono i distanziatori sociali se avessimo ancora il governo giallo-verde e il ministro dell'interno Salvini avesse detto assumeremo 60.000 persone per mandarle in giro a separare le gente a separare quelli che stanno troppo vicini a individuare e segnalare coloro che appaiono scusami Carlo, una differenza che Salvini rispetto a Boccia avrebbe anche indossato la pettorina avendo questa predilezione per le divise lui l'avrebbe messa Boccia non l'ha esatto no ora questo non vuole essere ci tengo in specie un argomento a favore di Salvini ma vuole essere un invito a usare lo stesso metodo di giudizio che giustamente avremmo usato verso questa proposta fatta da Salvini di fronte alla medesima proposta fatta dal ministro Boccia ecco io credo che ci sia un qualcosa di preoccupante e fammi dire una cosa un'ultima cosa poi cedo la parola serena che dovrà diciamo emendare questa roba dicendo qualcosa di intelligente ma io trovo francamente intollerabile che noi da un lato mandiamo le persone appunto a separare quelli che stanno vicino anche se magari indossano la mascherina anche se magari rispettano le prescrizioni di sicurezza e dall'altro abbiamo veri e propri assembramenti di esponenti delle forze dell'ordine in tutte le nostre città che fanno giustamente il loro lavoro indossano giustamente la mascherina e però stanno vicini gli uni agli altri ora la domanda è questa ma l'uniforme garantisce immunità contro il covid? perché se l'uniforme non conferisce immunità allora l'assembramento di militari è tanto pericoloso quanto l'assembramento di civili e a mio avviso vanno tollerati entrambi ripeto, nella misura in cui tutti rispettano le prescrizioni di sicurezza in caso contrario viene il sospetto ma lo dico solo come figura retorica perché è più di un sospetto che chi sta al governo abbia preso gusto a questa idea di controllare la società e dirci come ci dobbiamo comportare e gestire non solo per gli aspetti della nostra vita che sono di rilevanza sociale ma anche in tutti gli anfratti più personali di come noi gestiamo il nostro tempo e io trovo che questo sia francamente intollerabile basta oh, rivoluzione rivoluzione armata secondo me più che prenderci gusto cioè prenderci gusto è già una consapevolezza che io non attribuirei a chi sta prendendo queste decisioni mentre vedo molta consapevolezza nell'aver trovato un modo nuovo per dare un po' di soldi un po' di spiccioli per fare un po' di elemosina sociale questo sì sulla domanda di Amenta se questo è un fallimento dell'amministrazione dello Stato sì, ma aggiungo una cosa che mi inquieta ancora di più e cioè l'idea che il volontario la persona che volontariamente offre il proprio tempo la propria professionalità possa fare scusate un attimo mi ha sonato a casa intanto faccio io l'intervallo scusami ma sono venuti a distanziare sicuramente vai a rispondere che è già la guardia di finanza ecco comunque no facciamo un esperimento in diretta perché tanto qua ormai cioè sa posso fare un esperimento in diretta un meme un meme in diretta fai un meme in diretta perché poi magari tra chi ci ascolta c'è qualcuno che è bravo a smanettare e riesce a trasformarlo trasformare la mia intuizione geniale in un meme scusami il kalembur che diventerà virale ecco allora i distanziatori sociali scusate quando hanno rilasciato la sileona i distanziatori sociali come dovrebbero essere ecco come credono di essere ecco e come saranno ecco questo è diciamo quindi se qualcuno mi è venuto in mente anche il come si chiamava quel cartone con l'ispettore gadget l'ispettore gadget si vestiva come infatti vedi e questo abbiamo appena fatto una fotografia di noi tre esatto Serena che è giovane ricorda l'ispettore gadget e noi ricordiamo Peter Sellers esatto questo è il segno dei tempi quindi Serena concludi vai avanti ti hanno rilasciato sì mi hanno rilasciato no stavo dicendo che al di là della questione della supplenza l'altro aspetto allarmante è che si sotto questa idea di spirito civico di solidarietà di senso della comunità si affidino incarichi che per carità non stiamo parlando di incarichi delicatissimi non stiamo parlando di medici però comunque incarichi che richiedono un minimo di non dico forse professionalità ma un minimo di preparazione e invece è un po' lo stesso equivoco che c'è sotto il baratto amministrativo per cui tutti possiamo fare qualsiasi tipo di lavoro che abbia un senso di cittadinanza quindi non a caso questo bando si rivolge a conferma di quello che dicevamo prima cioè hanno trovato il modo per dare un lavoretto si rivolge a inoccupati disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza e o reddito di emergenza quindi l'idea è di dare un lavoro a categorie che attualmente non stanno lavorando ma non è che i lavori si danno a chiunque anche un incarico che può sembrare semplice come quello di distanziatore sociale in realtà ha degli aspetti delicati anche quello che dicevamo prima cioè l'aspetto relazionale tu che fai vai a interrompere una cena e a chiedere se sono congiunti devi sapere che cosa vuol dire essere congiunti devi sapere anche come approcciarti come relazionarti insomma non è che ci si improvvisa ma questo no ma questo è tanto vero io devo dire a me è successo negli ultimi tempi avendo ormai dato il via libera a potere bere mi sono dovuto rifare della quarantena ma le forze di polizia che hanno controllato i locali sono state di una competenza di un garbo e di una cortesia che sono tipiche di chi impara e è istruito a trattare con le persone al fine di minimizzare i problemi così non è stato per la polizia municipale che spesso è presa da dipendenti che dalla scrivania finiscono sulla strada e non hanno idea che quel potere che devono esercitare devono esercitarlo in maniera appunto e ha maggior ragione quando il controllo è un controllo che richiede un po' di discrezionalità no? il senso appunto l'assembramento che cos'è l'assembramento? l'abbiamo visto in questi mesi in cui l'interpretazione di concetti molto vaghi come la prossimità era affidata alle forze dell'ordine abbiamo visto quanto delicato fosse questo ruolo e non è che lo si dà a tutti soltanto perché è gente di buona volontà ma poi scusa facciamo un attimo Carlo un ragionamento dei economisti su una cosa che ha detto Serena che secondo me è molto importante tutti noi stiamo dicendo e sui giornali c'è scritto e Serena l'ha correttamente sottolineato che questa roba qua una delle ragioni che spiegano questa trovata è forse il tentativo di dare un lavoro a delle persone che sono inoccupate o sottooccupate ma cos'è il lavoro? il lavoro è uno dei fattori della produzione che serve appunto mischiandolo al capitale attraverso varie forme organizzative a produrre dei prodotti dei beni possono essere dei beni fisici una mazza da baseball una mazza da baseball possono essere dei beni materiali cioè dei servizi un taglio di capelli oppure possono essere delle funzioni pubbliche che può svolgere solo lo Stato dipendente dello Stato per esempio garantire l'ordine pubblico ora in questo caso che tipo di valore stanno creando per la società queste persone verosimilmente un valore molto basso perché davvero io fatico a immaginare l'utilità concreta di mandare 60.000 persone allo sbaraglio a rompere le balle a quelli che stanno vicini e ripeto magari indossano la mascherina quindi non c'è nulla di male nel fatto che stiano vicini e comunque con elevatissima probabilità soprattutto in due terzi abbondanti del paese sono sani e quindi anche senza mascherina non creerebbero nessun problema a sé e agli altri la mia sensazione è che la Repubblica fondata sul lavoro così dimostra Serena che conosco almeno un altro articolo che è il 10 oltre al 16 non era il 120 Serena c'ha tutto a dire guarda che è il primo esatto ti ha preso sul serio no la mia sensazione è che a valle di tutto questo dovremmo proporre andrebbe prodotta proposta una riforma costituzionale per riscrivere l'articolo 1 e dire che la Repubblica l'Italia non è una Repubblica fondata sul lavoro ma è una Repubblica fondata sui trasferimenti dall'esterno verso di noi e al nostro interno almeno siamo onesti con noi stessi no? sì sì ma infatti vai andiamo con la proposta di riforma costituzionale comunque questo è comunque questo questo stato che dove viviamo ormai è fallimentare totalmente fallimentare cioè se ora io voglio voglio giudere prima dell'arrivo di Stagnaro ricordandovi che se qualcuno ha ancora in mente che non si debba accedere al MES perché ci sono le condizioni idee come questa del governo di buttare i soldi in questo modo vi dovrebbe fare implorare le condizioni vi dovrebbe fare buttare a terra e chiedere che i tedeschi ci mandino un proconsole a decidere cosa dobbiamo fare mai più da soli questo quando dici ma gli inglesi hanno avuto la Brexit ma quelli hanno delle istituzioni noi che abbiamo gli assistenti civici questo è il livello del paese gli assistenti civici io farò l'assistente civico ve lo comunico adesso farò domanda anche io per fare la non posso fare domanda forse posso fare domanda no perché sei scusa mi ero distratta perché stavo pensando se volevamo ricordare un momento serio se volevamo ricordare questo tuo appello tra economia e istituzioni volevamo omaggiare diciamo di un ricordo a Lesina che si assolutamente brava serena conosciuto dal più vasto pubblico italiano anche perché sulle pagine del Corriere soprattutto insieme a Giavazzi e anche nei suoi libri ma insomma il vasto pubblico lo ricordava lo ricorda forse soprattutto come editorialista insisteva molto sul fatto che un'economia sana è anche un'economia che ha istituzioni giuridiche economiche sane è stato uno per esempio nella retorica contro l'austerità era stato uno aveva fatto diciamo un forte muro per dire attenzione che dove non c'è un po' di rigore nei conti ditemi se sbaglio perché non è materia mia ma io così lo leggevo però il rigore nei conti è proprio quello che fa evitare lo stiamo vedendo anche con questo episodio fa evitare cose che se non pesassero sulle nostre tasche sarebbero ridicole ma in realtà sono gravi proprio perché pesano sulle nostre tasche in momenti di vera difficoltà per tutti sì tra l'altro proprio su questi temi Alesina ha ricevuto in questi giorni avrebbe ricevuto in questi giorni il premio AIEC per il libro che ha scritto assieme a Francesco Giavazzi e Carlo Favero proprio sui temi del quando e come funziona l'austerità un libro che ci sentiamo caldamente di raccomandare a tutti soprattutto a quelli che si trovano nella condizione di prendere decisioni che abbiano effetti sulla disciplina fiscale del nostro paese ecco io prima di lasciare la rima di stagnare quindi rovinare questo momento serio e doveroso vorrei anche ricordare che persone come 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 Alesina e ce ne sono tanti in giro per il mondo fortunatamente mi stupiscono particolarmente mi hanno sempre stupito perché sono penso a Michele Boldrin a Sandro Brusco a Alberto Bisin e gli altri del gruppo appunto di Noise from America per esempio cioè sono persone che hanno uno status internazionale che vivono altrove ma che davvero si impegnano ogni giorno e spendono il proprio tempo per migliorare la situazione del proprio paese Alesina non aveva nessun motivo per continuare ad amare così il suo paese nel quale comunque non si era realizzato eppure ogni giorno quasi ogni settimana in tutte le sue iniziative continuava a cercare di fare in modo che questo corpaccione così malmesso si mettesse sulla buona strada ecco credo che questo sia un insegnamento anche Fioramonti anche Fioramonti che se n'è andato ma se n'è andato o è rimasto? è rimasto è rimasto Fioramonti è rimasto se n'è andato dal ministero però è rimasto e guarda io consiglio a tutti di seguire Fioramonti su Twitter perché è proprio uno dei personaggi che chirurgicamente dicono la cosa più più su qualunque sia il tema del giorno cioè non è soltanto uno di quelli che dice la cosa sbagliata e quindi comunque ti indica la rotta certo ma dice la cosa più clamorosamente sbagliata e quindi ti indica a maggior ragione ti indica la rossa sì sì assolutamente perché tu ha occhi chiusi fai il contrario e sei a posto proprio non sbagli mai mai e allora nel ringraziare Serena per avere intuso la puntata ricordando il professore Alesina e tutti e due per avere dato finalmente prova che siamo vivi e vegidi e dal fronte non solo continuiamo a lottare ma ancora di più viste tutte le minchiate che si sentono non ci sentiamo di abbandonare il fronte e resteremo con l'elmetto in testa anche per coprire la calvizia nel mio caso stagnare anzi ci saranno grandi novità e ci tengo a facciamo un po' di pubblicità io non me lo ricordo dalla settimana scorsa anche i Leoni Files che erano il nostro podcast settimanale sono approdati su YouTube e ritrovati sul canale dell'Istituto Bruno Leone quindi seguite l'Istituto Bruno Leone seguite Leoni Files seguite Liberi Oltre seguite Cronacae Dal Fronte seguite Fioramonti e soprattutto seguite Fioramonti allora Carlo regalaci una rima per chiudere in bellezza con gli assistenti civili la rima nasconde solleva soprattutto un dubbio che mi ha attraversato durante la discussione soprattutto da parte di Serena e quindi in qualche modo è rivolta è dedicata alla nostra Serena vabbè dai vabbè lo dico nel senso grazie soprattutto è dedicata alla nostra Serena vabbè me ne va spengo spengo il bico me ne va Boccia chiama migliaia di volontari per il distanziamento sociale articolo 16 alla mano non sarà mica anticostituzionale? bellissima la lasciamo lì la lasciamo lì per le frotte di costituzionalisti che si interrogeranno su questa rima grazie a tutti e due ci vediamo fra due giorni mi raccomando fra due giorni distanziatevi mi raccomando ciao non distanziate perché sennò ci arriva pure l'assistente c'è lì ma vaffa ciao a tutti ciao ciao ciao